giovani generazioni. Io credo che siano maturi i tempi ormai che la pubblica istruzione proceda su due fronti. Da una parte ad un aggiornamento serio sulla tematica verso il corpo docente, cosa che non è stata mai fatta. E forse è maturo il tempo di introdurre come insegnamento quello che alcuni chiamano educazione sentimentale nella scuola. Perché occorre far capire ai nostri giovani qual è l'esatta differenza che c'è fra un sentimento che sboccia nell'amore e che va al di là del sesso e un sentimento invece provato verso l'altra che può essere di natura pericolosa.